L'Italia copre poco meno del 17% dell'economia del settore primario dell'Unione Europea. Un'incidenza in termini di valore aggiunto che pone il Paese al secondo posto, appena dietro alla Francia, ma davanti a Spagna e Germania. Una posizione confermata anche nel 2023, nonostante la riduzione del 3,3% del valore aggiunto in termini reali, al netto cioè della dinamica dei prezzi, conseguente a un'annata agraria pesantemente condizionata dagli eventi climatici avversi. E quanto emerge con la presentazione del rapporto ISMEA 2024 sull'agroalimentare italiano? L'analisi rileva che tra gli eventi climatici avversi sono da segnalare in particolare i fenomeni alluvionali del mese di maggio in Emilia Romagna, Toscana e Marche, le gelate tardive che hanno interessato il 40% delle aree agricole italiane, specie nel nord-est e lungo la dorsale appenninica e le ondate di calore al sud, con un bilancio dei danni a carico soprattutto di frutta, foraggi e cereali, stimato da ISMEA per i soli eventi catastrofali attorno al miliardo di euro. Con il report emerge che l'annata 2023 è stata negativa per le coltivazioni legnose che più di altre hanno risentito dell'impatto di grandine e gelo tardivo sulla produzione. Frutta, ma soprattutto vino, che nel 2023 ha sperimentato la peggiore vendemmia dal dopoguerra ad oggi. Il consuntivo dell'anno si è rivelato negativo anche per le patate, ortaggi, per il comparto florovivaistico e per la zootecnia. Le coltivazioni erbacee, al contrario, hanno registrato un andamento complessivamente positivo, in particolare le colture industriali e cereali. In recupero anche la produzione di olio d'oliva, aumentata in misura significativa anche se lontana dai potenziali. Contrariamente al settore primario, l'industria alimentare ha chiuso il 2023 con un risultato decisamente migliore. Il valore aggiunto è aumentato del 16% a prezzi correnti e del 2,7% in volume rispetto all'anno precedente. nel contesto di una dinamica molto positiva nel decennio 2014-2023, sia in termini nominali che reali. La produzione l'anno scorso ha registrato solo una leggera flessione, ma nel quadro di un trend decennale comunque positivo.